Il ruolo della psicologia dei colori nel marketing alimentare e nelle vendite L'impatto della psicologia dei colori nel marketing è un elemento ben studiato e fondamentale per comprendere il comportamento dei consumatori, in particolare nell'industria alimentare. I colori giocano un ruolo cruciale nel plasmare le percezioni, influenzare le emozioni e orientare le decisioni d'acquisto. Questo articolo esplora come i colori specifici influenzano le scelte dei consumatori nel marketing e nelle vendite alimentari, offrendo approfondimenti sull'uso strategico dei colori per aumentare l'attrattiva del marchio e incrementare le vendite. Comprendere la psicologia dei colori nel marketing La psicologia dei colori si riferisce allo studio di come i colori influenzano il comportamento umano e il processo decisionale. Nel contesto del marketing, esamina come diversi colori possano influenzare le percezioni e le emozioni, guidando così il comportamento dei consumatori. L'industria alimentare, con la sua dipendenza dall'attrattiva sensoriale, sfrutta la psicologia dei colori per attrarre e fidelizzare i clienti. Rosso, stimolare l'appetito e l'urgenza Il rosso è un colore potente nel marketing alimentare. È spesso associato a eccitazione, passione ed energia. Le ricerche indicano che il rosso può stimolare l'appetito e creare un senso di urgenza. Ciò lo rende un colore ideale per i ristoranti fast food e i materiali promozionali. Ad esempio, molte catene di fast food utilizzano il rosso nei loro loghi e nei design degli interni per incoraggiare decisioni rapide e aumentare il consumo di cibo. Giallo, trasmettere felicità e calore Il giallo è comunemente associato alla felicità, al calore e alla cordialità. Attira rapidamente l'attenzione e può creare un'atmosfera gioiosa. Nell'industria alimentare, il giallo è usato per evocare sentimenti di gioia e comfort. I marchi utilizzano spesso il giallo negli imballaggi e nella pubblicità per attirare un ampio pubblico, soprattutto i bambini. La sua natura luminosa e invitante lo rende una scelta popolare per i prodotti orientati alla famiglia. Verde, significare salute e freschezza. Il verde simboleggia natura, salute e sostenibilità. È frequentemente utilizzato nel marketing di prodotti alimentari biologici, salutari o ecologici. Il colore verde può evocare un senso di calma e benessere, incoraggiando i consumatori a percepire il prodotto come sano e nutriente. I marchi che si concentrano sulla salute e sul benessere spesso integrano il verde nel loro branding per attirare i clienti attenti alla salute. Il blu è associato alla fiducia, all'affidabilità e alla qualità, sebbene sia meno comune nel marketing alimentare rispetto ad altri colori, viene utilizzato per trasmettere affidabilità e raffinatezza. Gli imballaggi blu possono conferire a un prodotto una sensazione di alta qualità, suggerendo un elevato standard. È anche utilizzato in ambienti in cui sono enfatizzati la pulizia e la professionalità, come nei ristoranti di alta gamma e nei prodotti alimentari con un focus sulla purezza. Arancione, suscitare entusiasmo e creatività. L'arancione combina l'energia del rosso e la vivacità del giallo, è associato all'entusiasmo, alla creatività e all'avventura. Nel marketing alimentare, l'arancione può stimolare l'interazione sociale e il divertimento. È spesso utilizzato in prodotti destinati a un pubblico più giovane o in contesti in cui è desiderato un senso di giocosità e creatività. Nero, comunicare eleganza e lusso. Il nero significa eleganza, raffinatezza e lusso. Viene utilizzato nel marketing alimentare per creare un senso di esclusività e di alto livello. I marchi premium utilizzano spesso il nero nei loro imballaggi e nella pubblicità per differenziare i loro prodotti dai concorrenti e attrarre una clientela più facoltosa. Conclusione. Nel mondo competitivo del marketing alimentare, comprendere e utilizzare strategicamente la psicologia dei colori può influenzare notevolmente il comportamento dei consumatori e aumentare le vendite. I marketer devono considerare l'impatto emotivo e psicologico dei colori per creare campagne di branding e pubblicitarie convincenti. Utilizzando i colori appropriati, i marchi possono comunicare efficacemente i loro valori, attirare il loro pubblico di riferimento e, in ultima analisi, aumentare la loro quota di mercato. Per ulteriori approfondimenti e applicazioni pratiche della psicologia dei colori nel marketing, non dimenticate di esplorare la playlist associata o guardare il video consigliato nella descrizione qui sotto. Per ulteriori approfondimenti e attraverso le prodotti e attraverso le prodotti e attraverso le prodotti.